La situazione è a fortissimo rischio. È possibile che a giorni, se non addirittura nelle prossime ore, i residenti di Brienz nel canton Grigioni debbano essere evacuati. La serata informativa di sabato scorso agli abitanti di questa frazione di Albula, che potrebbe venire sepolta da una colata di detriti alla velocità di 80 o più chilometri all'ora, è stato detto addirittura che potrebbero dover stare fuori casa a diversi mesi e sono stati invitati a portare via tutto ciò che non si può sostituire con i soldi. Le autorità stimano che fino a 1,2 milioni di metri cubi di detriti rocciosi provenienti dalla frana che incombe sul paesino potrebbero spostarsi verso il basso. Questa massa è molto umida rispetto al giugno del 2023, quando un'enorme colata era già scesa dalla montagna, fermandosi alle porte del villaggio. Si presume quindi che la roccia questa volta scivolerà più velocemente, penetrando fra le case più di quanto fatto lo scorso anno. Le misurazioni effettuate dal servizio di allerta precoce del comune hanno mostrato che dalla seconda metà di settembre la parte superiore della frana si è mossa a un ritmo di oltre 30 centimetri al giorno. Brienz è stata evacuata per l'ultima volta il 12 maggio 2023, quando fino a 2 milioni di metri cubi di roccia, l'equivalente di 2 mila case unifamiliari, minacciavano di cadere dal possente fianco della montagna che sovrasta il paesino. La notte del 16 giugno, 1,2 milioni di metri cubi di roccia erano scesi sotto forma di un enorme flusso di detriti e si erano fermati alle porte del villaggio risparmiandolo. A metà marzo di quest'anno sono nuovamente cadute diverse migliaia di metri cubi di roccia.